Dolce successo. Le 5 lezioni da Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato. Ciao a tutti. Oggi vi porterò in un viaggio magico nel mondo del successo. Ispirato al leggendario Willy Wonka e alla sua incredibile fabbrica del cioccolato. Siete pronti? Allora. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare in un mondo di dolci opportunità. Willy Wonka è stato un imprenditore straordinario. Un vero e proprio genio del cioccolato. Ma non è solo il cioccolato a renderlo speciale. È la sua mentalità e la sua creatività che lo hanno portato al successo. Oggi. Impareremo le 5 lezioni fondamentali che possiamo trarre da Willy Wonka e dalla sua favolosa fabbrica per ottenere il successo nella nostra vita. Lezione 1. Siate innovativi. Willy Wonka era costantemente alla ricerca di nuove idee e sperimentava combinazioni di sapori uniche. Nel mondo degli affari. La chiave per avere successo è distinguersi dalla massa e offrire qualcosa di unico. Trovate il vostro ingrediente speciale e portate l'innovazione nella vostra carriera o nel vostro business. Siate curiosi. esplorate nuovi orizzonti e siate aperti al cambiamento. Non abbiate paura di rompere gli schemi e di portare freschezza nelle vostre idee. Lezione 2. Coltivate la passione. Nel perseguire il successo. È fondamentale trovare ciò che vi appassiona veramente e mettere tutta l'anima nel vostro lavoro. La passione sarà il motore che vi spingerà a superare ogni ostacolo lungo la strada? Affrontate ogni sfida con entusiasmo e tenacia. La passione vi darà la forza di superare gli ostacoli e vi porterà verso grandi risultati. Lezione 3. Sviluppate la fiducia in se stessi. Willy Wonka credeva nelle sue capacità e nella sua visione. Nonostante le critiche e gli scetticismi. Il successo richiede fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di credere in ciò che potete realizzare. Credete nel vostro talento e fatevi guidare dalla vostra intuizione. La fiducia in se stessi vi darà la forza di perseverare anche quando tutto sembra impossibile. Lezione 4. Nutrite l'immagine di marca. Willy Wonka ha creato un'immagine di marca unica che ha affascinato il mondo intero. L'immagine di marca è fondamentale per il successo di un'azienda o di una persona. Costruite la vostra reputazione. Curate l'aspetto e il messaggio che trasmettete e create un'esperienza indimenticabile per il vostro pubblico. Siate autentici e coerenti con i valori che rappresentate. Costruite una relazione solida con il vostro pubblico. Offrite un'esperienza unica e mantenete sempre alta la qualità del vostro lavoro. Lezione 5. Condividete il successo. Willy Wonka ha aperto le porte della sua fabbrica al vincitore del biglietto d'oro. Dimostrando che il successo può essere condiviso e che la generosità può portare a grandi ricompense. Condividete la vostra conoscenza. Supportate gli altri nel loro percorso verso il successo e create un ambiente di collaborazione e crescita reciproca. Siate generosi e aperti a collaborare con gli altri. Il successo diventa ancora più dolce quando è condiviso con le persone intorno a noi. Ecco le 5 lezioni che possiamo imparare da Willy Wonka e dalla fabbrica del cioccolato per avere successo. Siate innovativi. Coltivate la passione. Sviluppate la fiducia in se stessi. Nutrite l'immagine di marca e condividete il successo. Prendete ispirazione da queste preziose lezioni e mettetele in pratica nella vostra vita. Vi prometto che i risultati saranno dolcemente sorprendenti. Ricordate. Il successo è come un cioccolatino. Deve essere conquistato con impegno, creatività e una buona dose di dolcezza. Spero che questo video vi abbia ispirato e vi abbia dato le giuste motivazioni per perseguire il successo nella vostra vita. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video ricchi di ispirazione. Ci vediamo alla prossima avventura.